Grande fratello, Shaila e Lorenzo sempre più isolati nella casa.Nella casa del grande fratello il rapporto tra Lorenzo e Shaila è sempre più fonte di tensione. Si sono creati schieramenti piuttosto ben definiti ma soprattutto la coppia è sempre più spesso isolata dal resto del gruppo, Tommaso, Giulia e Amanda esprimono il loro dispiacere nel percepire Lorenzo e Shaila distanti. Potrebbero partecipare un minimo, anche solo per fare due chiacchiere dice Giulia quando Lorenzo entra nella sala beauty dove i tre stavano discutendo. È l'occasione giusta per esprimere al ragazzo le proprie sensazioni. Dal canto suo, esclama Giulia, che vorrebbe condividere con loro piccoli momenti di leggerezza e divertimento. Ho bisogno del vostro aiuto, spiega lui invitando le persone che gli vogliono bene a esprimere maggiore empatia nei suoi confronti. Oggi non ce la facevo, è difficile. Voglio recuperare i rapporti che ho costruito qui. Amanda e Giulia lo abbracciano e lo confortano. È bello che tu e Shaila stiate insieme, ma isolarsi in un momento di tensione non vi aiuta. Lorenzo apprezza e prometta di fare di tutto per riavvicinarsi. La mattina dopo anche Giglio decide di affrontare la situazione, e ne parla così direttamente con Shaila. La ragazza però sembra non avvertire un evidente allontanamento di Lorenzo dal gruppo e spiega che i momenti che trascorrono insieme sono limitati alla sera. Ma Giglio prova a spiegarle che non è esattamente così. In riferimento alla sera precedente le fa notare come Lorenzo fosse assente dalle attività di gruppo, abbiamo giocato al lupus e lui non ha partecipato, e Shaila concorda ricordando di aver già cercato di spronare Lorenzo a unirsi al gioco. Il ragazzo insiste. Non ha problemi ad ammettere che probabilmente se si trovasse nella loro situazione vivrebbe un simile legame esattamente come stanno facendo Lorenzo e Shaila, d'altra parte pensa che potrebbero comunque ritagliarsi qualche momento con gli altri. Siete voi che dovete fare un passo verso gli altri, aggiunge, certo che non possano aspettarsi che siano sempre gli altri a cercarli. La prossima volta ci saremo sicuramente gli assicura Shaila dicendogli di comprendere il suo punto di vista. Dobbiamo prenderla con più leggerezza ammette poi Shaila riconoscendo che sia lei che Lorenzo, hanno un carattere forte che a volte tendono a isolarsi per piccole incomprensioni.